Esercizio di mobilizzazione globale della schiena La rigidità muscolare localizzata nell'area superiore della schiena, dorso, collo e spalle, è un problema molto diffuso che comporta sia difficoltà a muoversi, per esempio piegare o ruotare la testa, che presenza di dolore. Tali problematiche hanno una ripercussione su tutti i movimenti del corpo e soprattutto su quelli della zona lombare e del bacino. Perciò è molto importante che anche la muscolatura della parte superiore della schiena rimanga flessibile e forte. Attraverso questo esercizio sarà in grado di percepire e con il tempo ripristinare e migliorare la mobilità dell'area superiore della schiena e la coordinazione con i movimenti della zona lombare e del bacino. Posizione di partenza Quadrupedica Quadrupedica, ovvero a quattro zampe, con le mani appoggiate sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. La schiena è in posizione neutra. Azione Inspirando, inarcare la schiena e sollevare il capo per guardare avanti. Espirando, flettere il capo verso il basso e flettere la colonna. Si consigliano 3 serie da 5 ripetizioni ciascuna, con un minuto di riposo tra una serie e l'altra. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS